Bentornati a Quella Zampa, siamo tornati a Draga Sant'Elia, frazione di San Dorligo della Valle e siamo nella famosa locanda da Mario, sempre in compagnia di Giulia, volontaria che si occupa e dedica all'adozione di cani e anche gatti che cercano casa, anche salvandoli da situazioni drammatiche. Allora Giulia, come si fa ad adottare un cane proveniente dal sud Italia? Intendo dire, bisogna andarselo a prendere, un cane che magari di Caserta piuttosto che Napoli? No, assolutamente, uno non deve andare a fare un viaggio così lungo, ci sono queste staffette che praticamente sono dei viaggi della speranza, io li chiamo, dove volontari e no portano questi cagnolini su furgoni attrezzati e praticamente si avvicinano il più possibile alla città dell'eventuale adottante e i volontari accompagnano a casa questi cani o questi gatti sperando in un'adozione veramente buona e bella. Le adozioni non sono solo la volontà, la capacità, la possibilità di prendere un animale in casa propria, adozione e anche occuparsene magari a distanza, penso persone anziane che magari si innamorano di un grande cane però è molto impegnativo da un punto di vista fisico, allora come si può fare? Certo, ci sono le mamme e i papà a distanza, ossia se uno ha già diversi cani o non ha la possibilità di prenderli perché lavora tante ore e a casa non c'è nessuno eccetera, può fare la mamma o il papà a distanza, cioè scegliendo un cagnolino si può aiutare la volontaria con pappe antiparassitari, medicinali e un aiuto appunto a queste ragazze favolose che sfamano e curano tantissimi animali bisognosi, quindi anche con una modica cifra mensile oppure spedendo medicinali appunto come dicevo prima e pappe. Allora proseguiamo con i candidati questa settimana sempre di Nocera. Patti ha due anni, una taglia media sterilizzata vaccinata ha un carattere eccezionale, reclama carezze in continuazione, troviamo una famiglia perché è giovane, dolce, pacata ed ha tanto amore. Perla è un boxer femmina di 4 anni, vaccinata, microcippata e sterilizzata, ormai essere di razza non è più una garanzia, è stata messa in box, in canile dopo 4 anni di vita casalinga per problemi personali dell'adottante, ama correre e giocare, troviamole una casa. Pino sorride veramente, non è un fontomontaggio, è un cucciolo meraviglioso dal carattere dolcissimo, non vogliamo passi la sua vita in canile, è giovane e affettuoso, sterilizzato. Roger ha 6 mesi, una taglia piccola e tutti aspettiamo una telefonata, sarei interessata a Roger perché ne ha passate di tutti i colori, quando era in branco la chiamavano sentinella perché era il suo ruolo, doveva allertare se arrivavano uomini, ci si è messo tantissimo per abituarla alle carezze e affidarsi delle persone. Ed infine gattina piccoletta che a 4 mesi è stata abbandonata in strada, cerchiamo una casa per lei o quantomeno un posto dove installarla.